Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri brawler signori Altro appuntamento anche per oggi con la serie delle 7 in cui vediamo di fare un po' di cacciara signori, un po' di cacciara di quella giusta Allora, prima di partire il video vi ringrazio già in anticipo per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto Che state dando a questa serie, vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto per essere sempre aggiornati sulle live signori miei Soprattutto su Instagram, mi trovate come Maullo941 E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, trovate il link per poter fare tutto quanto la baladan in descrizione al video Detto questo, partiamo e non perdiamo tempo Ok signori, allora, 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 prima cosa da fare, abbiamo un sacco di cose da fare in questo video Allora, prima cosa andiamo a vedere gli amici perché c'è una richiesta di amici da parte di Luis Ciao Luis, grazie a me per avermi inviato la richiesta di amicizia, la accettiamo e siamo a posto Poi signori miei, devo andare a vedere il profilo di Andrea, che mi ha chiesto di far vedere il suo profilo Se non ho sbaglio appoggiare il tasto, questo è il profilo di Andrea Che mi ha chiesto di farlo vedere e io disponibilissimo lo faccio vedere tranquillamente Senza problemi, chi lo voglia aggiungere come amico lo può fare tranquillamente Cioè c'ha tutti i brawler sbloccati praticamente, ok E tutti a livello altissimo, al minimo tutti a livello 20 praticamente, perfetto Cioè io faccio schifo in confronto, va bene Comunque questa è la mia lista di amici, quella lì è il mio ID Quindi chi voglia aggiungermi mi può aggiungere senza problemi Detto questo, signori, allora, andiamo intanto al negozio Che abbiamo sicuramente qualcosa di gratuito da andarci a prendere Che devo trovare, oh una cassa Bello, 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 bello Dai, una bella cassa così, dai, dai, dammi qualcosa di bello, dammi qualcosa di bello Dai che sto carico, 70 monete d'oro Eh, non è male, 70, punti energia anche per il toro Che sta la 26 Va bene, il toro E punti energia per il super saian shelly 10 punticini, eh sì La voglia, prima che arriva al prossimo livello ce ne vuole abbastanza praticamente Va bene, va bene, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo Va bene così, va bene così Abbiamo preso le monete d'oro Poi, signori, abbiamo il Brawl Pass da andare a sbloccare Che se non sbaglio dovrebbero essere almeno tre E infatti, signori, abbiamo due casse enormi e una cassa normale Brawler da andare ad aprire Cioè questo video potrebbe già basarsi su questa, praticamente Delle aperture di tutto il mondo che stiamo per aprire Iniziamo con la prima cassa enorme, signori Rulo dei tamburi L'apriamo Cosa ci svelerà? Tre oggetti Allora, abbiamo 84 monete d'oro E questa non è una brutta cosa Punti di energia per Stekka, il nostro Ben Che con 10 punti di energia sale a 27 su 30 Ok Poi, punti di energia anche per il nostro Orso Yogi Che con 11 punti di energia lo possiamo migliorare Sale 84 su 80 Va bene E punti di energia per l'Ubriacone Con 11 punti di energia anche lui può essere migliorato Buono così, buono così Dai Mi aspettavo qualcosa di meglio, però va bene Andiamo con la seconda cassa La cassa brawler normale, signori Di livello 16 Del passe numero 16 Rulo dei tamburi E dai è così Apriamo la cassa Vediamo cosa ci riserva 22 monete d'oro Bella così Punti di energia per il toro 4 punticini che gli bastano per salire al prossimo livello Ovvero per essere migliorato E quindi eventualmente salire al prossimo livello E punti di energia per il Super Saiyan Scelli 8 punticini di energia Siamo ancora distanti Per poterlo migliorare Abbiamo ricevuto quindi 22 monete d'oro Punti di energia per il toro E punti di energia per Scelli Altra cassa enorme per noi, signori Mei Che andiamo ad aprire subito Rulo dei tamburi, signori Cassa enorme Come lo faccio male io il rulo dei tamburi non lo fa nessuno E dai è così Vediamo che troviamo 83 monete d'oro E non è male 83 monete d'oro mi piacciono Punti di energia per il nostro messicano pazzo 30 salda 86 su 130 Va bene Punti di energia per il nostro stecca ben Ben stecca addirittura 50 salda 77 su 30 Lo possiamo migliorare il nostro stecca E abbiamo finito così Ma che tristezza Ma dai ma sono cassa enorme Trovo solamente 3 cosine così Va bene Va bene Il prossimo pass saranno 50 monete d'oro La mega cassa è al ventesimo pass Va bene Va bene Ok Allora signori Mei Detto questo Noi andiamo intanto a sbloccare qua tutti i vari eventi Eventi, 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 eventi E pigliamo tantissimi teschi per noi Arrivando a 350 e passa Abbiamo sbloccato Pezzo grosso Tenuta di caccia Che non so bene in cosa consista Torniamo indietro Andiamo a migliorare il brawler Allora intanto voglio migliorare il nostro ben 35 monete Lo possiamo migliorare Dai così Migliora ben Che sale a livello 3 Buono così E lui l'abbiamo migliorato Poi possiamo migliorare bombardino Ovvero il nostro ubriacone Che vuole solo 35 monete d'oro Lo possiamo migliorare Che sale a livello 3 Anche se è fermo ancora a grado 2 Va bene Poi potremo migliorare L'orso gli occhi Quante monete vuole 140 Porca miseria E invece il toro E il toro 35 Dai Anche lui sarà a livello 3 Dai Quanto meno Li aumentiamo un poco tutti Li aumentiamo un poco tutti Detto questo signori miei Io guardate Quasi quasi Mi fermo qua Abbiamo fatto un episodio solamente di apertura e casse Così si chiamerà questo video Apriamo una botta di casse E niente signori miei Io vi ringrazio per aver guardato questo video Che è stato così Molto veloce Molto facile Ma almeno facciamo qualcosa di diverso Ogni tanto invece di combattere sempre ogni volta Detto questo signori miei Io vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E vi ricordo di seguirmi sui social Sia su Instagram Che su Facebook E noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao